bentornati guerrieri e bentornate guerriere qui su elder channel oggi pubblico un video evento un video evento molto importante un evento a cui tengo veramente tantissimo ovviamente se volete sapere di che cosa si tratta non vi rimane che guardare questo video ma prima vi chiedo di mettere un like ed iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati io vi mando il solito bacio e ci vediamo dopo la sigla bentornati e bentornate guerrieri e guerriere un brevissimo brevissimo video per ricordarvi che tra un mesetto praticamente il 10 di dicembre terrò una conferenza alla libreria esoterica di milano adesso faccio questo video così lo metterò anche su facebook spero insomma che arrivi a più persone possibili che cosa succederà alla libreria esoterica innanzitutto l'appuntamento è alle 4 e mezza avremo a disposizione più o meno un'ora barra un'ora e un quarto per parlare di gratitudine questo evento è stato pensato durante la registrazione della mia rubrica sulla gratitudine su the secret of gratitude ve la metto qua nelle schede per quanto riguarda youtube comunque andate a trovarla ve la metto nel nel commento insomma nel post per quanto riguarda facebook e ho visto che la rubrica effettivamente sortiva un grosso interesse e una grossa volontà da parte di chi appunto guardava i video di saperne di più e quindi ho voluto pensare e organizzare anche un momento che non fosse solo digitale quindi non fosse solo reperibile al computer ma che fosse un momento da condividere proprio anima vicino ad anima è una cosa che ci manca questo il fatto di condividere degli spazi fisicamente insieme di parlarsi guardandosi negli occhi personalmente trovo il mezzo digitale utilissimo per arrivare a tante persone e soprattutto per tante persone per arrivare a dei concetti che altrimenti magari non avrebbero l'opportunità di confrontarci sì ma in realtà nel momento in cui queste cose vengono affrontate dal vivo hanno tutto un altro tutta un'altra potenza tutto un altro tutta un'altra reattività e creano tutto un altro livello energetico che ovviamente non è richi reabile a livello digitale per cui siete veramente tutti invitati l'entrata è gratuita per cui mi farà veramente piacere di vedere quanti più di voi e di abbracciarvi e di guardarvi nel occhi finalmente perché voi conoscete me ma io non conosco voi per cui mi piacerebbe veramente conoscervi tutti quanti vi ricordo l'appuntamento 10 dicembre sabato galleria dell'unione numero uno libreria esoterica ovviamente alle ore 16 e 30 sì alle ore 16 e 30 la raggiungete comodamente con la linea metropolitana gialla la numero 3 a milano la fermata ai missori oppure potete anche fermarvi in duomo e fare due passi a piedi ma sono veramente due passi perché proprio lì dietro raggiungibilissima anche da via torino sono veramente 150 metri quindi insomma non c'è non c'è assolutamente nessun problema vi dico che tra l'altro per chi viene da fuori dato che mi state scrivendo in tantissimi chi viene da fuori si beccherà veramente un bello spettacolo perché il 10 dicembre siamo sotto natale quindi ci sarà il duomo già addobbato con tutte le luci i negozi aperti insomma troverete veramente un gran clima e io sono felicissima e penso che si veda che sono troppo felice di fare questa cosa di condividerla con voi in ogni caso vi lascio tutte le informazioni scritte nell'info box per quanto riguarda youtube e nel come si chiama nel post per quanto riguarda facebook per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi sapete che io vi rispondo sempre molto volentieri e rispondo ad ognuno di voi io vi ringrazio con tutto il mio cuore di tutto quello che è il vostro supporto quotidiano veramente lo apprezzo in modo che non riesco neanche a descrivere quelle parole vi mando il solito bacio e tantissimo ma tantissimo amore ma tantissimo amore ma tantissimo amore Together, heart and me, heart and ye, heart and me Stay with me, when you are last in trouble Grow with me, cause I've got all your sentience Love with me, we're trying to learn together Heart and me, heart and ye, heart and me Heart and me, heart and me Stay with me